Valentina Tirozzi è riuscito ad avere dopo un secondo e un terzo set giocati parecchio sotto tono in cui abbiamo fatto sicuramente troppi errori abbiamo lasciato giocare e galvanizzare l'altra squadra nel quarto però siamo tornate molto più aggressive perché comunque ci tenevamo molto a chiudere questo round con tre vittorie per ripartire poi la settimana prossima tranquille e per cercare di lavorare tutta la settimana andando a migliorare quegli aspetti che sicuramente ancora dobbiamo migliorare per arrivare al weekend a Montecatini in forma